Ho meditato a lungo su come poter paragonare questo teatro in cui mi trovo al mondo. Ho meditato a lungo su come poter paragonare questo teatro in cui mi trovo al mondo. Ma poiché il mondo è popoloso e qui non c'è altra creatura fuori di me non riesco a farlo. Ma poiché il mondo è popoloso e qui non c'è altra creatura fuori di me non riesco a farlo. Tuttavia martellerò questa idea perché non nasca. Nella mia mente farò la femmina, del mio animo è padre. Nella mia mente farò la femmina, del mio animo è padre. E insieme genereranno una pensiera. E insieme genereranno una generazione di pensieri. E insieme procreeranno una generazione di pensieri che a loro volta ne genereranno altri. E saranno pensieri contrapposti, con sentimenti sbilanciati. come è la gente di questo mondo. Grazie. 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 Molti anni fatti di giorni felici e ridano al mio grazioso soprano, al mio affettuosissimo signore. Ogni giorno...